Le castagne sono fantastiche, io le adoro, vivrei di castagne, castagne sempre ovunque. Mi sono fatta anche una collana con le castagne. Avete in mente il profumo delle castagne? Quando in inverno camminiamo per strada ci colpisce le narici? Chi non si sente attratto da quel profumo e non inizia a desiderare le calde arroste? A me succede sempre. Quel profumo viene da molto lontano, ha iniziato ad alleggiare migliaia di anni fa tra le popolazioni della nostra civiltà. Le castagne hanno sfamato molti popoli ancora prima del grano insieme agli olivi e ai legumi. Il loro profumo sa di pane, di zucchero, di farina, insomma sa di buono. Le castagne sono trascurate perché bisogna cuocerle e in Italia si stanno consumando sempre più cibi pronti. L'Italia che è la patria della cucina del mondo vive di cibo finto. Non va bene. E la castagna è l'esempio di un alimento importante che va riscoperto. Tutti parlano di cucina sana, di slow food. Ma chi cucina più le castagne in casa e si fa il castagnaccio per esempio, anche un piccolo castagnaccio così. Riprendiamoci la nostra cucina, cuciniamo di più a casa. La cucina è civiltà, la cucina è cultura, la cucina è salute. Oggi voglio parlarvi di questo cibo antico, tipico dei nostri boschi. Ho sentito una diceria diffusa molti anni fa che le castagne fanno ingrassare. Ma non è vero. Ho fatto degli studi e delle indagini approfondite e con i miei consigli scoprirete che non è così. Sì, intanto lo sapevate che le castagne che si trovano per terra sotto gli ipocastani non sono dei frutti commestibili ma dei semi. Io da bambina le chiamavo castagne matte. E da voi hanno un nome speciale? Fatemelo sapere nei commenti. Invece le castagne buone sono i frutti del castagno. Un alimento straordinario da utilizzare in tanti modi diversi. Anche voi avete paura di mangiare le castagne perché vi hanno detto che gonfiano e fanno ingrassare? In questo video vi spiegherò come mangiare le castagne in modo ottimale e tre ricette per avere solo benefici e niente problemi con la bilancia. Ma non solo, vi rivelerò anche tre benefici delle castagne per la vostra salute. E per gustare ancora meglio questo frutto così dolce e con un po' di notizie gustose. Nell'antica Roma venivano chiamate noci nude e dalle castagne secche si faceva una farina per i digiuni religiosi in cui non si potevano mangiare cereali. Nel medioevo la castagna era riservata solo alle classi più agiate e veniva usata come merce di scambio, come una moneta. Intorno al 1400, in un periodo di guerra e crisi, si diffuse tra gli strati più poveri della popolazione come alimento sostitutivo del pane e dei cereali che invece scarseggiavano. Poi gradualmente è diventato un alimento sempre più apprezzato e utilizzato in diversi modi in cucina. Fino ad oggi la castagna ha molte fibre, zuccheri, proteine di qualità e pochi grassi. È ricca di potassio e altri minerali, magnesio, calcio, sodio e fosforo. Possiede vitamine idrosolubili preziose come la B1, la B2, la vitamina PP e la vitamina C. La castagna è un elemento molto generoso con la nostra salute, ecco tre suoi speciali benefici. È un ottimo rigenerante psicofisico naturale, ricco anche in caso di avitaminosi e debilitazione. Ha un effetto antinfiammatorio ed è spettorante, per cui è sedativo per la tosse. E il decotto di castagne è una stringente intestinale, serve quando l'intestino è troppo attivo e poco solido. Visto quanti benefici? E per conoscere i benefici di tanti altri alimenti che potete avere in casa ogni giorno, basta iscriversi al mio canale, con un clic, così. La castagna è super nutriente, ma non pesante. E adesso vi svelo l'errore più comune nel mangiare le castagne, che è all'origine della loro fama di dare pesantezza e gonfiore. È l'abitudine di mangiare le castagne a fine pasto, come dolce, come dessert. Non va bene, perché i suoi zuccheri naturali provocano fermentazione. Ecco allora tre ricette e consigli per consumare le castagne senza gonfiarsi. La prima ricetta è per il mattino. Si può preparare una colazione energetica e salutare con la farina di castagne. Si fa così. Si estempera la farina con il latte di riso. Si aggiungono cuvette, pinoli, frutta secca sminuzzata. E si fa cuocere come una frittatina. Diventa un piccolo castagnaccio molto semplice e leggero. La seconda ricetta è per le portate principali del pasto, pranzo o cena. Potete fare molti piatti azzeccatissimi, come per esempio il risotto alle castagne, la zuppa di castagne, la minestra di castagne fatta con il latte. Questa ricetta la faceva mia nonna Clelia di Ferrara. Che ricordi buonissimi! E poi ancora il purè di castagne, il passato di castagne, la pasta alle castagne, le tagliatelle di castagne, le castagne con i funghi, le polpette di castagne, le frittelle di castagne. Sono tutti piatti buonissimi che possono anche sorprendere i vostri ospiti a cena e dare grande soddisfazione a tutti. E le castagne mangiate così nel pasto non gonfiano. La terza ricetta è per lo spuntino da mangiare tra un pasto e l'altro. Potete mangiare delle castagne cotte al forno, delle calde arroste, portarvi un sacchettino o comprarle in uno di quei chioschetti che li fanno al momento. Sono molto meglio di snack dolci o industriali a base di carboidrati troppo raffinati, come pezzette, crackers o focacce o merendine per riempire il buco del pomeriggio. Se avete bambini sappiate che anche per loro sono fantastiche, abituateli a mangiarle e saranno loro a chiederlele. Sono ottime anche per gli sportivi perché forniscono velocemente una quantità equilibrata di carboidrati, proteine e potassio utile all'attività muscolare che poi sono assimilabili velocemente. Una nota importante, le castagne sono sconsigliate ai diemetici e chi soffre di colite dovrebbe mangiarne con moderazione e senza il classico bicchiere di vino rosso che nella nostra tradizione spesso le accompagna. Insomma, la castagna è un ricostituente capace di sostenerci in un periodo dell'anno come l'inverno, in cui il freddo e la diminuzione delle ore di luce possono aumentare la stanchezza e diminuire il sistema immunitario. Come sempre madre terra sa di cosa abbiamo bisogno e ci regala quell'alimento al momento giusto, utile, sano, nutriente e facile da usare in cucina. Nella stagione fredda regaliamoci questo dono prezioso. Consumiamo tutti più castagne, ma italiane mi raccomando. Ho sentito che la produzione di quest'anno è stata scarsa per via di una malattia dei castagni e allora sosteniamo la nostra economia, sosteniamo le nostre tradizioni, controlliamo bene la provenienza delle castagne che acquistiamo. E viva la dieta mediterranea, quella vera naturalmente! Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Usate anche voi le castagne? Sapevate di questi benefici? O avete altre ricette particolari? Fatemele sapere scrivendole nei commenti qui sotto. E condividete questo video per fare conoscere ai vostri amici e sui vostri social i benefici di questo sano alimento. E sul mio sito, all'indirizzo scritto nell'info box qui sotto, trovate tante informazioni utili per mangiare sempre in modo sano, naturale e gustoso. E stare bene! E iscrivetevi al canale Naturalmente! Ciao! Ciao!